Ciao, sono Isi, sono cubana, nata il 18 luglio 1981, ho 34 anni e faccio la barista e la cantante. Il mio sogno sarebbe di diventare una cantante di fama. Io voglio arrivare alla conclusione che non mereces che io te dè mi perdon, che lo che necessito è la separazione, perché acabaste con questo amore. Perché ci sono fissimi ballare? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qua si conflita, canto, ballo e suono. Mi piace tantissimo abbinare i colori, i vestiti, le scarpe. Uscire con le amiche come una ragazza normale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.